Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 Tutti i dieci sfinanti si portino su un patto, Montelubienesi-Cecilia, Marziani-Alessio, la Monica-Serena, Ricci-Marco, Alessandrini-Ineri. Il cambio deve avvenire tra la prima riga e la seconda. Attenzione concorrenti, pronti? Partita la settima edizione. Intanto impegniamo le persone del pubblico di tirarsi qui indietro perché lo spazio è riservato unicamente ai concorrenti. Veniamo in tanto appaiati al comando Cavallucci-Marco, con i del fulghi, il suo messo si vede in più avanti, e qui si muove con il terreno. Cambiano per più i delfini, i cavallucci, gli squali, poi le balene, possono essere notevoli, cambiano al comando sempre i cavallucci, poi le balene. hanno cambiato adesso i delfini, gli squali, al quinto posto, i gremi. E hanno rimontato, notizionalmente, l'attacco, e hanno arrivato il terreno sul rione delle balene. Cambiano per più i cavallucci marini seguiti dalle balene. e poi gli squali. E adesso il Bruno Dolfini, il campo, il sottolineo che è finito, ha rimasto, la giocante delle balene, poi i cavallucci. Quali le sirene, accogliati, le sirene hanno fatto il motore del mondo. Bravo! 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 Abbiamo scogliato, la giocante delle balene, Alessandrini, Ineri per gli squali, si prepara ora il fraccionistico del numero 6, Curli Vanilla, il radisolo, è rimontato, andano balene, sirene, accogliati così, avremo sicuramente... Cambiano al terzo posto il rione, squali, seguiti dai cavallucci marini, e dai delfini. Abbiamo... Attenzione, stati indietro per favore, i cronometristi non possono vedere, lui ci manda indietro tutti per favore. Sirene, balene, cambiano adesso le sirene, sì, ecco in questo momento il cambio per le balene, luca, cambio del ministro, luce, un vantaggio nel sirene, seguito dalle balene, appagliati, con un discreto vantaggio sulle balene, ragazzi, per favore spostatevi da qua davanti, lasciate spostare. E qui clicca il calcio vantaggio. no, 2, 2, 3, 4, 4, 1, 5, 6, 5, 6, un citrato per fiore, facciamo un bel applauso a rione cavallucci marini sul piazzato nel quarto posto con il tempo di 17 e 30 e 60 numero 9 voretti gianluca numero 10 tirabassi enrico numero 2 di luca daide numero 3 monaldi numero 10 citturini giorgio ovviamente al capo rione che è in fondo di omelino numero 2 un su alessio numero 3 per ondesca martina benissimo allora rione sirene secondo classificato in senso 38 e 0 simoni matteo benissimo di farlo e simoni giancarlo capo rione simoni renzo consegna il presidente del comitato festeggiamenti sacro coro di gesù capo d'arca giorgio il confalone a rione del balene complimenti un bel applauso un caloroso applauso ai vincitori della settima edizione nel palio del mare benissimo di farlo 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 benissimo di farlo